Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce il mio nome Rossella Pani, oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire da lunedì 19 febbraio a lunedì 26 febbraio 2024. Utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, le carte delle fatte, quelle degli unicorni e poi pescheremo una carta dal mazzo della legge dell'attrazione di Rhonda Barn. Facciamo una preghiera di protezione per connetterci alle frequenze dell'amore, della saggezza, dell'integrità affinché possiamo uscire dall'ego e ascoltare col nostro cuore cosa gli angeli e l'Arcangelo Michele hanno da dirci in nome dell'amore. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, Maria Maddalena e l'intera coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, la verità, la saggezza, l'integrità e l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione fisica e psichica per me e per tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie all'intera coscienza micaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Arcangelo Michele, qual è il messaggio più giusto per tutte le persone coinvolte, per il massimo bene di tutte le anime coinvolte e così è. Passa più tempo all'aria aperta, anima infinita. seconda carta, vai avanti senza paura, terza carta, in questa situazione è utile pregare. Bene, interessante come si sta ponendo la lettura, vediamo un po' le carte delle fate che io adoro, ci sono dei messaggi molto belli, sessualità, ecco qua la seconda carta, una nuova opportunità, qua sono uscite due carte, vediamo un po', al sicuro, verso la libertà, bellissimo, aspettate, verso la libertà, aspettate, mannaggia, al sicuro, ok. Vediamo le carte degli unicorni, cosa ci vogliono dire, io amo queste carte, hanno una frequenza altissima, ok, fluire liberamente, poi vediamo cosa intende, si è girata una carta, vedete, cicli, terza carta, eccola qui, miracoli, che bella questa carta, c'è un bel futuro roseo, va bene, prossimo futuro, l'energia è predisposta per la manifestazione di qualcosa di importante, eccola qui, sono cadute troppe carte, quindi non va bene, rimescoliamo un altro po', un messaggio di abbondanza per vedere in che frequenza siamo a livello collettivo e cosa ci serve per sintonizzarci nella frequenza della gioia, dell'abbondanza e manifestare i nostri sogni, pensa prima di agire, questo è il messaggio che l'arcangelo Michele e gli angeli ci vogliono dare, allora iniziamo, gli angeli ci stanno invitando a trascorrere più tempo all'aria aperta, per connetterci con la terra, per eliminare tutte quelle energie caottiche che ci stanno, ogni tanto magari entriamo nei pensieri negativi, nelle emozioni negative, stare dentro una costruzione di cemento, sono tante le onde elettromagnetiche discordanti, le tecnologie che interferiscono sul nostro equilibrio psicofisico e radicamento alla terra, abbiamo bisogno di trascorrere almeno un'ora al giorno a contatto con la terra, a contatto con la natura, questo ci consentirà di essere più centrati, radicati, equilibrati e per ascoltare anche cosa la madre terra ha da dirci, per aiutarci, per sentire anche meglio gli angeli, per sentire meglio i messaggi di Michele, assolutamente questo è molto molto chiaro, ok? Se stai intraprendendo un percorso di un certo tipo, un percorso, un tuo obiettivo, no? Stai lavorando per la manifestazione dei tuoi sogni, assolutamente vai avanti senza paura, è questa la via giusta per te, sei nella direzione giusta, Dicevo che hai bisogno di un aiuto spirituale, quindi sei invitato, sei invitata a pregare, prega di più, fai le preghiere di protezione, fai le preghiere di liberazione, di radicamento e di guarigione, le puoi trovare sul mio sito internet, connessioneangeliche.com, risorse gratuite, o qui su Youtube, o nei vari canali social, comunque ci sono tutte le preghiere, che sono un grandissimo aiuto e sostegno, per veramente purificare la tua energia, per aiutarti a radicarti e per liberarti dalle energie di paura. Ok, passiamo, scusate, la cucina, allora passiamo alla sessualità, ok? Diciamo che le carte delle fatte stanno parlando di sessualità, è venuto il momento di guarire le ferite legate a una sessualità sbagliata o vissuta male, il rapporto col tuo corpo è molto importante, riconnetterti con l'amore per te stessa, con la tua intimità, e vivere intimità anche col tuo partner, affinché vi sia un'intimità in nome dell'amore e non solo dell'ego, di una sessualità egoica, perché questo ti porta fuori asse, ti allontana dal tuo cammino spirituale. Se in passato, dice l'Arcangelo Michele, hai vissuto violenze di qualsiasi tipo, è venuto il momento di guarire le ferite del passato attraverso il processo del perdono. Questo ti consentirà di guarire e di esprimere la tua energia sessuale attraverso la creatività. La creatività arriva dalla sessualità. Sembra strano, ma è così, è l'energia sessuale che porta, se allineata, se in equilibrio, può veramente scatenare la manifestazione della tua anima, della tua espressione creativa, delle tue arti, dei tuoi talenti, dei tuoi doni. Assolutamente, gli angeli dicono, vai avanti senza paura, assolutamente una nuova opportunità alle porte, ok? Quindi veramente si sta presentando qualcosa di importante davanti a te, cogli la palla al balzo per piacere, non esitare ad andare avanti, sei al sicuro, sei al sicuro, assolutamente questa via ti porterà verso la libertà, libertà, scusate il cagnolino, ma libertà di che tipo? Libertà di espressione, libertà economica, libertà di essere chi tu sei veramente, nella tua completezza, nella tua totalità, ok? Segui il fluire, il fluire è questo flusso di energia che ti sta guidando nella direzione giusta, seguilo, lascia andare la paura, lascia andare il passato, lascia andare il giudizio degli altri, hai bisogno di seguire l'onda, di cavalcarla come un surfista, veramente hai l'abilità di esprimere i tuoi talenti, fallo, è un ciclo che si chiude, è un nuovo ciclo che si apre, il passato è nel passato, perdona il passato, tu non hai fatto niente di male, anche se avessi fatto qualcosa di male, il perdono e la guarigione del cuore, della tua anima, ti consentiranno di ascendere in una nuova energia, di entrare in una nuova frequenza, anime infinite, se ascolterete i messaggi di Michele, miracoli infiniti alle porte, si manifesteranno dinanzi a voi, eventi sincronici e perfetti, stanno arrivando nella vostra vita, quindi ascoltate il flusso, seguite l'onda, andate avanti senza paura, preghiera di protezione, assolutamente, azioni mirate, azioni mirate, guidate dall'amore, non dalla paura, vi aiuteranno a manifestare i miracoli infiniti, ora vediamo l'energia della legge, diciamo per manifestare, noi vibriamo a una certa frequenza, uscita questa carta, prendi l'abitudine giornaliera, di analizzare quello che capita nella tua vita, prendendo consapevolezza che quello che capita nella tua vita, arriva dai tuoi pensieri, dalle tue emozioni, guarda le forze universali, tutto quello che tu fai, qualunque cosa tu fai, pensi e agisci, deriva appunto dalla tua energia, quindi capisci che se tu cambi la tua energia, tu puoi cambiare la tua realtà, ok? Quindi cerca di diventare un creatore consapevole, pensa e agisci di conseguenza, in nome dell'amore, in nome della verità, in nome dell'integrità, allinea la tua energia, e tutto si manifesterà, e miracoli infiniti si manifesteranno, nella tua vita, nella tua esperienza, ok? Bene, anime infinite, la lettura si è conclusa, volevo ricordarvi, che i miei prossimi seminari, vi mando giù le date, allora il prossimo seminario, di guarigione energetica, con le nuove frequenze di luce, e di connessione al sé superiore, sarà a San Donato milanese, a partire dal 23 marzo, al 26 marzo 2024, massimo 20 posti disponibili, nel senso che 20 sono i posti, però disponibili, ne abbiamo 8 circa, quindi veramente, apprettatevi a iscrivervi, se non rischiate di non trovare posto, è un'esperienza meravigliosa, 4 giorni intensi, imparerete tutto sulla guarigione, imparerete a facilitare, la connessione al sé superiore, riceverete la vostra connessione, al sé superiore, dai membri del mio team, Francesco e Valentina, insomma, veramente sarà un'esperienza unica, nel suo genere, e riceverete, anche 3 sessioni, di riequilibrio energetico, che sarò io a facilitare, su di voi, a distanza, prima del seminario, oppure potrete scegliere, di vivere l'esperienza, dei due giorni, o addirittura, di vivere i due giorni, e ricevere la vostra connessione, al sé superiore, avete 3 opzioni, quindi, pensa bene, cosa senti nel tuo cuore, dove la tua anima, ti sta chiamando, se invece, non è la possibilità, di spostarti fisicamente, arrivare fino a San Donato milanese, il mio prossimo corso, di guarigione online, di 9 settimane, inizierà il 29 di aprile, lunedì 29 aprile, alle 20 e 30, per 9 settimane, 2 ore per ogni lezione, imparerai tutto, sul riequilibrio energetico, imparerai logo sealing, riceverai 4 guarigioni, avrai tutto il materiale didattico, le lezioni saranno registrate, insomma, un'esperienza unica, e fantastica, che ti consiglio di vivere, perché è veramente, straordinaria, e non solo, se invece vuoi lavorare, in presenza, ma marzo è una tatta, troppo imminente, magari c'è, il percorso di maggio, abbiamo un seminario, a Roma, anime infinite, dal 25 maggio, al 28 maggio, 2024, per maggiori informazioni, clicca qui sotto, abbiamo le locandine, guarda i video, di informazione, che presentano il seminario, e se sei interessato, se sei interessata, contattami, senza impegno, io vi saluto, vi auguro, una settimana, di miracoli, infiniti, vi abbraccio col cuore, tanta luce, tanto amore, a presto, ciao anime meravigliose,